Ma quindi è come se fosse una centrale lombarda dei Francescani? Sì, dei Francescani Cattucci. L'esperienza più importante della mia vita sono stati i 20 mesi di servizio civile che ho svolto in una comunità per il recupero dei tossicodipendenti. E ho imparato che in realtà dare è quasi un gesto di egoismo, nel senso che si riceve talmente tanto che è proprio bello farlo. Che cosa significa per me oggi Opera San Francesco? Beh, innanzitutto io sono sempre passato qua intorno, ho sempre visto, ho sempre ammirato, ma dall'esterno e non sapevo esattamente che cosa ci fosse detto. Sono nuovo, sono un apprendista, sto facendo la formazione. Grazie all'esperienza che ho fatto oggi trovo per San Francesco indispensabile e insostituibile. Ci siamo! Porca vacca! Sono quasi 10 chili! Mi sembra che si possa annoverare, come si usa dire oggi, fra le eccellenze di questa città. Ora siamo in un'epoca in cui sembra che chi fa del bene è un cretino. Per me continua ad essere invece una cosa buona, indispensabile. Bisognerebbe continuare a farlo. Opera San Francesco è una figata pazzesca. Grazie a tutti.